Leo. Cavalcare Arion fu la cosa migliore successa a Leo in tutta la giornata, il che non era molto, visto che la sua giornata era stata uno schifo. I cioccoli del cavallo trasformavano la superficie del lago in vapore salato. Leo gli posò la mano sul fianco e percepì i muscoli che lavoravano come una macchina ben oliata. Per la prima volta, comprese come mai, i motori delle auto si misuravano in cavalli. Arion era una Maserati con le zampe. Di fronte a loro c'era un'isola, una striscia di sabbia candida come sale da cucina, oltre la quale si scorgeva una distesa di dune erbose e rocce logorate dalle intemperie. Leo sedeva alle spalle di Hazel, con un braccio intorno alla sua vita. Quella vicinanza lo metteva un po' a disagio, ma era l'unico modo per restare a bordo, o comunque si dicesse nel caso di un cavallo. Prima di partire, Percy lo aveva preso da parte per raccontargli la storia di Hazel. Voleva solo fargli un favore, ma tra le righe era arrivato chiaro anche il messaggio «Se combini qualche casino con la mia amica, ti darò personalmente impasto a uno squalo bianco». Percy gli aveva spiegato che Hazel era una figlia di Plutone, morta negli anni quaranta del Novecento e riportata in vita solo pochi mesi prima. Leo stentava a crederci. Hazel sembrava molto, molto viva. Niente a che vedere con i fantasmi e gli altri mortali ressuscitati con cui lui aveva avuto a che fare. Sembrava anche cavarsela bene con la gente, al contrario di Leo, che si sentiva molto più a suo agio con le macchine. Gli esseri viventi, tipo i cavalli e le ragazze, beh, Leo non aveva idea di cosa li facesse funzionare. Hazel poi era anche la ragazza di Frank, perciò il figlio di Efesto sapeva di dover mantenere le distanze. Però i suoi capelli avevano un buon profumo e, quasi suo malgrado, cavalcare insieme a lei cominciò a far battere forte il cuore di Leo. Arion atterrò sulla spiaggia, pestò gli zoccoli intonanti e nitrì in tono di trionfo, come faceva Edge con il suo grido di battaglia. I ragazzi smontarono e il cavallo scalpitò sulla sabbia. «Ha bisogno di mangiare», spiegò Hazel. «Gli piace l'oro, ma... l'oro? Si accontenterà dell'erba». «Vai pure, Arion. Grazie del passaggio. Ti chiamo». Un secondo dopo il cavallo era sparito, lasciandosi dietro una scia di vapore sul lago. «Un cavallo veloce», commentò Leo. «E costoso da mantenere». «Non proprio», replicò Hazel. «L'oro non è un problema per me». «Non è un problema?» Leo inarcò le sopracciglia. «In che senso? Ti prego, dimmi che non sei parente di Remida. Non mi piace quel tipo». Hazel storse un po' la bocca, come se si fosse pentita di aver tirato fuori l'argomento. «Lascia perdere». A quel punto Leo era ancora più curioso, ma decise che era meglio non insistere. «Beh, almeno abbiamo risolto un problema. Questa qui è tutta calce». Hazel aggrottò la fronte. «La spiaggia?» «Sì. Vedi? I granelli sono perfettamente rotondi. In realtà non è sabbia, è carbonato di calcio». Leo tirò fuori dalla cintura degli attrezzi una busta di plastica con la zip e affondò la mano nella calce. Ma si bloccò di colpo. Ripensò a tutte le volte che la dea della terra gli era comparsa nel terreno, al suo volto addormentato fatto di polvere, sabbia o sassi. Immaginò i suoi occhi chiusi e il suo sorriso sognante che turbinavano nel candido calcio. Gea adorava tormentarlo. «Vattene via, piccolo eroe», disse la dea. «Senza di te la nave non si potrà aggiustare». «Leo, stai bene?» chiese Hazel. Lui trasse un respiro profondo. Si stava suggestionando da solo. Gea non era lì. «Sì. Sì, sto bene». E cominciò a riempire la busta. Hazel si inginocchiò accanto a lui per aiutarlo. «Perché non abbiamo portato palette secchiello?» L'idea divertì, Leo. «Avremmo potuto fare un castello di sabbia», disse riuscendo a sorridere. «Un castello di calce». I loro sguardi si incrociarono per un secondo di troppo. Hazel lo distosse per prima. «Somigli tantissimo a... Sammy?» intuì Leo. «Lei rimase di stucco». «Lo sai?» «Non ho idea di chi sia. Ma Frank mi ha chiesto se per caso non mi chiamassi così». «E... non ti chiami così?» «No». «Non hai un fratello gemello?» Hazel si interruppe. «La tua famiglia è di New Orleans?» «No, di Houston. Perché? Sammy è un ragazzo che conoscevi?» «Non importa. È solo che gli somigli». Leo capì che era troppo imbarazzata per aggiungere altro. Ma se Hazel veniva davvero dal passato, questo significava che pure quel Sammy era degli anni quaranta? Allora in tal caso, come faceva Frank a conoscerlo? E perché Hazel avrebbe dovuto pensare che erano la stessa persona dopo tutti quegli anni?» Finirono di riempire il sacchetto in silenzio. Leo se lo ficcò nella cintura degli attrezzi e lo vide sparire. Niente peso, niente massa, niente volume. Ma sapeva che l'avrebbe trovato lì non appena l'avesse cercato. Poteva portarsi dietro qualunque cosa entrasse nelle tasche della cintura degli attrezzi. Leo la adorava. Avrebbe soltanto voluto che le tasche fossero abbastanza grandi per una motosega o magari un bazooka. Si alzò e scrutò l'isola. Dune bianchissime, spiazzi d'erba e rocce incrostate di sale. Pestus ha detto che c'è del bronzo celeste da queste parti, ma non so dove possa trovarsi. Di qua. Eise l'indicò più su. A 500 metri. «Come fai? I metalli preziosi appartengono al regno di Plutone», spiegò la ragazza. Leo ripensò al commento di prima sull'oro. «Mica male come talento». «Vai avanti tu, Miss Metal Detector». Il sole cominciò a tramontare. Il cielo assunse uno strano colore tra il porpora e il giallo. In un'altra realtà, Leo si sarebbe goduto quella passeggiata sulla spiaggia con una bella ragazza, ma più si allontanavano e più si sentiva nervoso. Alla fine, Eise il punto verso l'entroterra. «Sicura che sia una buona idea?» le chiese. «Sì, siamo vicini». Appena superate le dune, videro la donna. Era seduta su un masso che sorgeva in mezzo a un prato. Una motocicletta cromata nera era parcheggiata poco distante, ma le ruote somigliavano a dei Pac-Man. Mancava una grossa fetta di cerchione da ciascuna di esse. Era impossibile guidarla in quello stato. La donna, tanto magra da mostrare le ossa, aveva capelli ricci e neri. Indossava pantaloni da motociclista di pelle nera, stivali alti e un giubbotto di pelle rosso sangue. Una specie di incrocio tra Michael Jackson e un motociclista degli Hells Angels. Il terreno ai suoi piedi era cosparso di conchiglie spezzate. La donna continuava ad aprirne altre, tirandole fuori dal sacco su cui era china. C'erano le ostriche nel Great Salt Lake. Leo ne dubitava. E non moriva certo dalla voglia di avvicinarsi a quella donna. Aveva già avuto diverse brutte esperienze con donne strane. La sua vecchia babysitter, Tia Callida, si era rivelata essere Hera, oltre ad avere la pessima abitudine di metterlo a fare il riposino nel caminetto acceso. Hera aveva ucciso la madre di Leo in un'officina, quando lui aveva otto anni. La dea della neve, Chione, aveva cercato di trasformarlo in un ghiacciolo, a Sonoma. Ma Eisel avanzò spedita, perciò Leo non poteva fare altro che seguirla. Mentre si avvicinavano, il figlio di Efesto notò particolari inquietanti. Allacciata alla cintura, la donna portava una frusta arrotolata. Il giubbotto di pelle rossa era solcato da un disegno sottile, i rami ritorti di un melo, popolati da uccelli scheletrici. Le conchiglie che stava aprendo in realtà erano biscotti della fortuna. Il mucchio di biscotti spezzati le arrivava già alle caviglie, ma la donna continuava a tirarne fuori altri, li spezzava, leggeva il messaggio e quasi sempre lo buttava. A volte borbottava qualcosa scontenta, marchiava il foglietto con un dito e richiudeva magicamente il biscotto, per poi gettarlo in un cesto. «Che sta facendo?» domandò Leo senza riuscire a trattenersi. La donna alzò lo sguardo e i polmoni di Leo si riempirono talmente in fretta, da fargli temere che potessero scoppiare. «Sia rosa?» Non aveva nessun senso, ma quella donna era identica a sua zia. Aveva lo stesso naso grosso con la verruca in un angolo, la stessa bocca inacidita e lo stesso sguardo duro. Ma non poteva essere, zia rosa. Lei non si sarebbe mai vestita in quel modo e abitava ancora a Houston. Non poteva starsene lì a spezzare biscotti della fortuna nel bel mezzo del Great Salt Lake. «È così che mi vedi?» chiese la donna. «Interessante. E tu, Hazel cara?» «Come sai il mio...» Hazel fece un passo indietro, allarmata. «Lei... lei è identica alla signora Lear, la mia maestra di terza elementare. La odiavo.» La donna ridacchiò. «Non ti piaceva, eh? Ti giudicava ingiustamente?» «Mi legava le mani al banco per cattiva condotta», rispose Hazel. «Diceva che mia madre era una strega. Mi dava la colpa di cose che non avevo mai fatto e...» «Ma deve essere morto ormai. Lei chi è?» «Ah, Leo lo sa», replicò la donna. «Tu che cosa provi verso la zia rosa, Mijo?» «Mijo!» Sua madre lo chiamava sempre così. Dopo che Speranza Valdessa era morta, sua sorella rosa aveva rifiutato il bambino. Lo aveva chiamato figlio del demonio e lo aveva incolpato dell'incendio che aveva ucciso Speranza. Rosa aveva rivoltato la sua famiglia contro Leo, un orfanello striminzito di otto anni, lasciandolo alla merce dei servizi sociali. E lui era passato da una famiglia affidataria a un'altra, finché non aveva finalmente trovato una casa al campo mezzosangue. Leo non odiava molte persone, ma dopo tutti quegli anni la faccia di zia rosa lo faceva ancora ribollire di risentimento. Cosa provava? Aveva voglia di fare i conti con lei. Voleva vendicarsi. Spostò lo sguardo verso le ruote Pac-Man della motocicletta, dove aveva già visto una cosa del genere. Alla casa sedici, giù al campo mezzosangue. Il simbolo sopra la porta era una ruota spezzata. Nemesi, la dea della vendetta. Visto? Leo mi riconosce. La dea sorrise a Hazel, spezzò un altro biscotto e arricciò il naso. Riceverai una fortuna quando meno te lo aspetti. Questo è proprio il genere di sciocchezze che detesto. Qualcuno apre un biscotto e all'improvviso una profezia gli garantisce la ricchezza. Tutta colpa di quella vagabonda di Tiche. Sempre in giro dispensare fortuna alla gente che non se la merita. Leo scruttò la montagnola di biscotti spezzati. Eh, lo sa vero che non sono vere profezie? I messaggini ce li mette dentro la fabbrica. Niente chiacchiere, lo fulminò Nemesi. Tipico di Tiche, illudere la gente. No, no, devo ostacolarla. Nemesi fece scattare un dito sulla strisciolina di carta e le lettere diventarono rosse. Morirai dolorosamente quando meno te lo aspetti. Ecco qua, molto meglio. Ma è orribile, protestò Hazel. Permetterebbe davvero che qualcuno trovi una cosa del genere nel biscotto e che la profezia si avveri. Nemesi fece un verso di scherno. Vedere quell'espressione sulla faccia di zia Rosa per Leo era roba da brividi. Mia cara Hazel, non hai mai augurato cose orribili alla signora Lear per come ti trattava? Ma non ho mai voluto che si avverassero. Ah! La dea richiuse il biscotto e lo lanciò nel cesto. Immagino che tu, Tiche, la chiameresti Fortuna, dato che sei romana. Come gli altri, sta passando un brutto momento. Per me invece non c'è problema. Mi chiamano Nemesi sia in Grecia sia a Roma. Non cambio mai, perché la vendetta è universale. Che ci fa qui? Domandò Leo. Nemesi aprì un altro biscotto. Numeri fortunati, ridicolo! Non è nemmeno una profezia come si deve. Sgretolò il biscotto e sparse le briciole a terra. Per rispondere alla tua domanda, Leo Valdis, i dei sono in pessima forma. Succede sempre così, quando si sta preparando una guerra civile tra voi greci e romani. Gli dei dell'Olimpo sono divisi tra le loro due nature. Si sentono tirare da entrambe le parti. Diventano un po' schizofrenici. Temo. Mal di testa lancinanti. Disorientamento. Ma noi non siamo in guerra, ribatte Leo. Leo, hai da poco bombardato Nuova Roma, gli ricordò Hazel. Lui la fissò con tanto d'occhi. Non l'ho fatto apposta. Lo so, ma i romani non se ne rendono conto. E ci daranno la caccia per rappresaglia. Ascolta la ragazza, Leo. Nemesiri da chiò. La guerra è vicina. Opera di Gea, con il tuo aiuto. E riesci a indovinare chi incolperanno gli dei per la loro situazione? La bocca di Leo sapeva di calce. Incolperanno me? Ma sentitelo. La dea fece un verso di scherno. Non si può dire che tu non abbia un'alta opinione di te stesso. Sei solo una pedina, Leo Valdés. Mi riferivo a chi è all'origine di questa ridicola missione, di questa idea di unire Greci e Romani. Gli dèi incolperanno Hera, o Giunone se preferisci. La regina del cielo è scappata dall'Olimpo per sfuggire all'ira della propria famiglia. Non aspettarti ulteriori aiuti dalla tua protettrice. Leo si sentiva pulsare la testa. Provava sentimenti contrastanti nei confronti di Hera, che si era immischiata nella sua vita fin da quando era piccolo, plasmandolo per servire gli scopi della grande profezia. Ma almeno era stata dalla sua parte, più o meno. E se adesso era tagliata fuori? E tu allora perché sei qui? Domandò. Per offrirvi il mio aiuto, naturalmente. Nemesi sorrise maliziosa. Leo lanciò uno sguardo a Hazel. Sembrava che le avesse appena offerto un serpente. Il tuo aiuto? Ma certo, confermò la dea. Adoro far crollare gli orgogliosi e i potenti, e nessuno lo merita più di Gea e dei suoi giganti. Devo però avvertirvi che non tollererò un successo immeritato. La buona sorte è una frode. La ruota della fortuna è una truffa di scala colossale. Il vero successo è frutto del sacrificio. Il sacrificio? La voce di Hazel era tesa. Ho perduto mia madre. Sono morta e sono tornata in vita. Ora mio fratello è disperso. Non sono sacrifici sufficienti per te? Leo la capiva perfettamente. Avrebbe voluto gridare che pure lui aveva perso la madre. Tutta la sua vita era stata una disgrazia dopo l'altra. Aveva perso il drago, Festus. Si era ammazzato di fatica per finire Largo Due. E poi aveva bombardato il campo romano, scatenato una guerra e forse perso la fiducia degli amici. In questo momento vorrei soltanto avere un po' di bronzo celeste, disse cercando di controllare la rabbia. Oh, questo è facile, replicò Nemesi. Basta superare la collina. Lo troverai insieme alle innamorate. Innamorate? chiese Hazel. Quali innamorate? Lo vedrai. Forse vi insegneranno una lezione, Hazel Levec. Nemesi si lanciò un biscotto in bocca e lo inghiottì con il messaggio e tutto. Di solito gli eroi non possono sfuggire alla propria natura, nemmeno quando viene data loro una seconda occasione di vita. La dea sorrise. Quanto a tuo fratello Nico. Non vi resta molto tempo. Vediamo. È il 25 giugno, giusto? Sì, avete altri sei giorni. Poi morirà insieme all'intera città di Roma. Hazel sgranò gli occhi. Come? Cosa Nemesi si rivolse a Leo? Quanto a te, figlio del fuoco. Le prove più dure devono ancora arrivare. Sarai sempre l'escluso, la settima ruota del carro. Non troverai posto fra i tuoi fratelli. E presto ti troverai di fronte a un problema che non saprai risolvere. Potrei aiutarti, ma tutto a un prezzo. Leo sentì odore di fumo. Si rese conto che le dita della mano sinistra erano in fiamme e vide che Hazel lo fissava terrorizzata. Si ficcò la mano in tasca per spegnere il fuoco. Preferisco risolvere i miei problemi da solo. Ne va bene. Nemesi si spolverò il giubbotto dalle briciole di biscotti. Ma quale sarebbe il prezzo del tuo aiuto? La dea si strinse nelle spalle. Uno dei miei figli ultimamente ha dato un occhio in cambio della possibilità di fare la differenza in questo mondo. Leo si sentì rivoltare lo stomaco. Vuoi un occhio? Nel tuo caso forse ci vorrebbe un altro sacrificio. Ecco, tieni. Gli porse un biscotto della fortuna ancora intatto. Se ti servirà una risposta, rompi questo. Risolverai il tuo problema. Con mano tremante, Leo prese il biscotto. Quale problema? Al momento giusto lo saprai. No, grazie, disse il figlio di Efesto in tono fermo. Ma la sua mano, come se avesse una volontà propria, fece scivolare il biscotto nella cintura degli attrezzi. Nemesi raccolse un altro biscotto dal sacco e lo spezzò. Avrai presto motivo di riconsiderare le tue scelte. Oh, questa mi piace. Non c'è bisogno di cambiarla. Sigillò di nuovo il biscotto e lo gettò nel cesto. Pochissime divinità saranno in grado di aiutarvi in questa impresa. La maggior parte ne è già incapace e la loro confusione non farà che aumentare. Solo una cosa potrebbe riportare di nuovo l'unità sull'Olimpo. Un antico torto finalmente raddrizzato. Ah, come sarebbe dolce. I piatti della bilancia finalmente in equilibrio perfetto. Ma non succederà se non accetterai il mio aiuto. Suppongo che non ci spiegherai di cosa stai parlando, replicò Hazel. O perché mio fratello ha solo sei giorni di vita. O perché Roma sarà distrutta. È tutto collegato, Hazel Levec. Nemesi ridacchiò. Quanto alla mia offerta, Leo Valdes, pensaci su. Sei un bravo ragazzo, un gran lavoratore. Potremmo metterci in affari. La dea drizzò la schiena e si mise il sacco di biscotti in spalla. Ma vi ho trattenuti troppo. Dovete raggiungere lo stagno riflettente prima che la luce scompaia. Quel povero ragazzo maledetto si agita molto all'arrivo del buio. A Leo non piacque per niente l'ultima frase. La dea salì sulla moto. A quanto pareva, il veicolo funzionava nonostante le ruote Pac-Man, perché Nemesi avviò il motore e scomparve in una nuvola di fumo nero. Hazel si chinò. Tutti i biscotti spezzati e i messaggi erano scomparsi, tranne per un foglietto accartocciato. Lo raccolse e lesse «Ti vedrai riflesso e avrai motivo di disperare». «Fantastico», mormorò Leo. «Andiamo a vedere che cosa significa». Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.